Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Potenza coordinata dalla locale Procura della Repubblica, finalizzata l'esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di vari soggetti, alcuni elementi noti nel mondo dello spaccio potentino ritenuti responsabili di traffico illecito di sostanze stupefacenti di vario genere e di altri reati. E' stato anche individuato il canale di rifornimento della rete di spacciatori che sono tutti residenti ed operanti a Potenza e provincia. La droga infatti veniva acquistata in provincia di Bari. Gli investigatori della squadra mobile di Potenza, coadiuvati dagli operatori del reparto Prevenzione e Crimine Basilicata e del personale del commissariato di Polizia di Gravina in Puglia, stanno eseguendo anche numerose perquisizioni con l'ausilio di unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Bari. Sono stati impiegati per l'operazione circa 70 agenti della Polizia di Stato con il supporto aereo di un elicottero del reparto volo di Napoli.